Ciao a tutti amici, bentornati su Fasmofobia. Oggi torniamo su Fasmofobia e proveremo a non morire dopo cinque minuti. Ci siamo! Forza Anacoli! Oh oh oh, ho visto, ho visto, ho visto, ho visto, ho visto. Ma dove? Ha fatto tutta una scia, è andato in fondo ma giù. Due gradi pieno, tre gradi. Ci sei? Ci sei, darci il segno. Ha camminato? Come ti chiami? Ci sei? Tu? Oh! Arriva a quattro. Non c'è. Oh, ma come? Ma ci sono tutti, le so. Vabbè ci sono tutti! Grande! Ragazzi! Guardate che spettacolo! Dovremo a non morire dopo cinque minuti. Ora, guardate che spettacolo! Nessuno, guardate che spettacolo! E poi, guardate che spettacolo! che è successo caccia occhio ci siete no già bene non sono morti tutti e due porca troia buona fortuna a cosa c'è un po' rì bene molto bene f è morto ecco adesso vedete che muore andate attentamente ragazzi ora si ma non vale lo sa al vola witness apporto che cosa comunque ma se non ci dì se non ci dì la morte della è come se forza ma dopo sono cacato sotto pensavo si può essere ucciso da sola voglio vedere se ci sono copone di luce no 4.1 dove qui qui dove ha camminato anche sul sale oh due mi dà uno sta scrivendo su taccuino eh però non dà ha scritto su taccuino ah ha scritto le candele gennaro ha fatto le candele caccia ti sta cacciando ah quando si è chiuso scusa ma adesso si è chiuso penso adesso sei sicuro che è un po' perché sì perché abbiamo le tre prove lo stravioletto libro spiritico e spirit box allora e non è eh aspetta quella la terza proprio spirit box ah ok ok però da prima si ho aperto adesso io ma ora si è aperto prima a te oh cazzo ho fatto la foto su sono un mostro sono un mostro cioè sono un mostro guarda qua ma mi sei cagato ed era pure un obiettivo andiamo allora andiamo andiamo era già perfetta zio pera zio pera zio pera zio pera andiamo andiamo oggi è grazie a tutti Grazie a tutti